I due progetti ammessi ammontano rispettivamente a 2.380.000 euro e a 1.900.000 euro e sono finanziati attraverso il POR Puglia FESR FSE 2014-2020 Asse 4 Azione 6.2 avviso per la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la bonifica di aree inquinate adottato con decreto dirigenziale numero 202 del 2017. Con l'approvazione della graduatoria e quindi dei progetti ammessi a finanziamento la Regione Puglia produce atti concreti finalizzati al recupero di aree ricadenti in territori inquinati. Ringraziando il settore rifiuti e bonifiche per il lavoro svolto, conclude Borracino, chiedo all'assessore Stea, dando atto del suo continuo impegno, di proseguire in questo lavoro di miglioramento ambientale al quale la Regione Puglia è votata sin dal 2005. La Regione Puglia finanzia un intervento di bonifica nel quartiere Tamburi di Taranto e quanto esprime con soddisfazione Mino Borracino, assessore della Regione Puglia allo sviluppo economico. Con atto dirigenziale numero 280 del 15 novembre 2018, la Regione Puglia ha approvato la graduatoria attraverso la quale verranno finanziati progetti di bonifica di aree inquinate. Nello specifico sono stati ammessi a finanziamento gli interventi di messa in sicurezza e bonifica della ex discarica RSU del Comune di Monopoli in Contrada Caramanna e di un rilevato di rifiuti nel quartiere Tamburi di Taranto. Taranto ha bisogno di questi atti concreti e dell'impegno costante delle istituzioni. Taranto Caramanna Grazie.